... Allora cosa ci impedisce di prendere in mano le nostre vite e di tentare di ribellarci democraticamente? Come stasera con questa piazza cremita a ritrenerci la vita e quantomeno a votarli via e dare un'occasione Poi vedremo come andrà, li valuterete un'occasione a coloro che non sono responsabili del disastro di questo paese Noi vogliamo solo un'occasione, ce la meritiamo anche Sono cinque anni che combattiamo, io sono cinque anni che giro tutte le piazze d'Italia Lo faccio anche oggi diventato papà con mio figlio e la mia compagna in canta Io vi ringrazio sempre per continuare a noi E non solo candidato, abbiamo risultato tanti pochi, ci sono degli altri studenti, candidati e censurati Non abbiamo mai avuto il figlio di prendere il petto e il potente di tutto E solo il campo sotto cava per l'insurio, tiene quello che qualcuno di città e sarebbe tenuto direttamente